Ah, allora, per chi ha già visto il video di ieri di Los Amigos già sa più o meno tutto, già ha capito più o meno la situazione e quindi sa già anche cosa andremo a fare quest'oggi. Ma per chi non avesse visto il video di ieri di Los Amigos e per chi fosse completamente estraneo dalla vicenda, ecco un breve riassunto. Qualche giorno fa sono stato a casa di Los Amigos per registrare un video per lui sul suo account, dove semplicemente se vinceva dovevo shoppargli una skin. Bene, durante la partita io gli ho consigliato di prendere un lanciarazzi al posto del cecchino e lui a fine game, come un pollo, è morto sparando col lanciarazzi e colpendosi da solo. Mo, lui vuole dare la colpa a me e quindi si voleva vendicare e dato che io quando sono andato a casa da lui si è salvato i dati del mio account, cioè non è che si è segnato password e email, semplicemente quando io ho inserito i miei dati personali lui ha spuntato la casella dove c'è scritto ricorda i dati di questo account. E quindi niente, è riuscito a rientrare proprio liscio come l'olio, io avevo dei V-Buck caricati sull'account di PC perché dovevamo registrare una cosa sul mio account su PC e mi ha shoppato tutto. Comunque per vedere meglio vi lascio il link in descrizione del suo video che è uscito ieri dove vi spiega la sua situazione dal suo punto di vista e dove vi fa vedere anche un bel gameplay, ha fatto 15 kill per fortuna col mio account, quindi andatelo a vedere. Appunto dato che dopo quel video lui sapeva che avremmo dovuto registrare in serata, infatti parliamo pianissimo raga, in questo video parliamo pianissimo perché lo stiamo registrando verso mezzanotte, e lui sapeva che io nel pomeriggio non dovevo fare nulla, infatti ero fuori, lui ha registrato questa cosa mentre io non c'ero, perché appunto c'eravamo sentiti e dovevamo registrare la sera. Quando io sono entrato ho trovato questa bella sorpresa e adesso vedete la mia bella reaction a quando ho scoperto che qualcuno, ovvero los amicos, è entrato sul mio account e mi ha shoppato l'intero set scheletro, quando in realtà io volevo solamente il maschio e il piccone, ma vabbè non è stato quello il problema, il problema è che mi ha fatto prendere un colpo perché pensavo che qualcuno fosse entrato sul mio account. Comunque io direi che l'hashtag loss infame sotto nei commenti è d'obbligo e soprattutto raggiungiamo i 10.000 mi piace perché voglio vendicarmi. Ora, lui sicuramente vedrà questo video quindi saprà che mi voglio vendicare, ma un modo lo troveremo. Allora Los, non ti sento abbastanza carico per questo duo degli scheletri? Ah, io sono carichissimo, se tu non sei carico. Allora, allora, lo shoppiamo in live insieme, non abbiamo abbastanza fubac ragazzini, ci dobbiamo shoppare anche quelli, quindi, allora intanto per incominciare vi dico subito che andrò a shoppare il maschio e... Ma che cazzo? Cosa c'è, Gigi? Già in possesso. C'è qualcosa che non va? Ma aspetta, non è che è buggato... Aspetta, fammi vedere l'armadietto. Ma che cazzo è successo? Mi spieghi cosa stai facendo? C'ho tutte le skin, c'ho tutto. C'hai tutto? No, del... Come si chiamano? Pure il piccone, pure il deltaplano. Del coso? Come si chiama? Della... Del teschio. Cosa vuol dire c'hai tutto? C'ho tutto shoppato, ma io non ho shoppato niente. E i tuoi crediti sulla persona sono gli stessi? No, tra play e pc, no. E io qua su play non avevo caricato. Cioè, dovevo caricare adesso. Della play, quelli della play sono rimasti uguali, no? Sì, 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 della play sì. Ok, ok. Ah, sai, ho capito cosa è successo. Non ti spiego. Ti ricordi che avevi caricato qua da me... ...e su pc? Ah beh, quelli su pc... Per fare quel video, no? E che c'entra? Ok. E ti ricordi che le avevi caricato il giorno in cui abbiamo fatto il video della sfida per il buon verdiero oscuro, no? Eh, sul canale 2. Ok. Sì, sì, sì. Qua sul mio pc abbiamo fatto entrambe le robe, ok. E particolare questo è che, essendo che hai logato sul mio pc e mi hai fatto perdere la sfida prendendo i lanciarazzi, qualcuno, ne non dico il nome, è entrato e ti ha scioppato tutto il set. Qualcuno a caso. Allora, ma vaffanculo, io già mi stavo impanicando a contattare il coso, il servizio clienti qua, come si chiama, il supporto. Ma è... quindi adesso è scioppato tutto. Esatto, non è solo il maschio, c'è la femmina, deltaplano, piccone e tutto il set che potevo scioppare. Io avevo pure detto in live da te, dico, mi scioppo solo il piccone e il maschio. Eh, ma mi spiace, ma io ho il bombarolo e quel lanciarazzi mi è arrivato qua, quindi la vendetta ti ho detto che arrivava, ti ho detto che arrivava. Ma bacca cava. Allora, premettiamo una cosa. Il set è figo tutto, quindi non mi posso arrabbiare per il set, perché io avrei scioppato solo il piccone e il maschio, ma perché tanto credevo che la femmina non la userei mai. Quindi, vabbè, è una cosa in più. A me la cosa è che mi hai fatto prendere un colpo, perché pensavo che fosse entrato qualcuno nel mio account. Qualcuno è entrato. Eh, vabbè, qualcuno è entrato, giustamente. E niente, vabbè, comunque poi abbiamo fatto due partite, che adesso vi farò vedere. Tra l'altro, la prima non potete capire come siamo morti, cioè, veramente vedrete il panico. Mentre la seconda, penso sia una delle partite più veloci della storia di Fortnite, quindi mi raccomando, guardatelo fino alla fine, perché sono due partite, una più strana dell'altra. Ripeto, abbiamo parlato piano perché era tardissimo di sera, io poi mi stavo impanicando, infatti era visto, a un certo punto stavo balbettando, non savo nemmeno io quello che stavo dicendo. Invece di dire supporto, ho detto tipo servizio clienti, che è tutta un'altra cosa, raga, stavo impanicato troppo. Pensavo di aver sclerato di più, mentre poi rieditavo il video, sembravo anche abbastanza tranquillo, ma vi assicuro che stavo veramente impanicato. E tra l'altro qualcuno, sotto il video ieri di Loss, e, cioè, oddio, qualcuno, in realtà un paio di persone l'hanno scritto anche sotto il mio video. Cioè, tipo, per un ammontare di tre persone hanno provato a dire che è fake. Cioè, prima cosa perché dovremmo fare una cosa del genere fake, cioè, non ha proprio senso. Potevamo fare qualcosa di più grosso fake a quel punto. Però, appunto, queste persone, in effetti, avevano un po' ragione sul fatto che ho due nomi differenti sul mio account. Infatti, per questo sto spiegando il motivo, cioè, non lo spiegherei se non ci fosse stata questa cosa. Ovvero, io ho lo stesso account sia su PC che su Play, e fino a qua non ci sbagliamo. Il problema è che su PC ho il nome dell'account dell'IP Games, che quindi è GGYT. Mentre, quando gioco su Play, appare un altro nome, che è GGTube98, perché è il nickname della Play 4. Però è lo stesso account, ha le stesse skin, ha lo stesso tutto, tranne i VBAC. Infatti, anche per quello io non capivo, perché i VBAC sono diversi sia da PC che da Play. Quindi è successo un panico, il panico, anzi, io tipo, lasciamo stare, avete visto che stavo balbettando, quindi lasciamo stare. E niente, ci tenevo a spiegare questa cosa, perché effettivamente, i nomi essendo diversi, magari qualcuno poteva pensare che erano due account differenti, o non lo so. Poi lo sapete, la gente si fa le pippe mentali, quindi meglio spiegare tutto com'è. E niente, ripeto, due partite, una più strana dell'altra, buon divertimento, ci dobbiamo vendicare assolutamente con l'osso, e niente, buona visione. Dai, Gigi, su con la vita, che qua, vedrai, vinciamo e ti rallegra di nuovo. Sì. Vai a vincere con 27 bombe. Un piccolo scherzino. Un scherzino. Ma no, ma non è tanto, cioè, chi se ne frega delle skin, vabbè. Ma il fatto è che mi hai fatto prendere un colpo sul fatto che fosse entrato qualcuno nel mio account. Hacker. Hacker. Qualcuno mi ha hackerato l'account. Dai, che con egli. Eccoli, 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 l'osso, eccoli, vieni. Vivendo, 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 vivendo. Non è male che quello ci va al drago. Oh, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. Hittato. Vado giù, vado a pushare quello. What the fuck? Mi ha fatto malissimo. No. Ah, è me? Mi ha fatto male questo. Ci sciompe. Eh, vabbè. Vabbè, ha tirato solo uno. What? No, un altro team, lo s... Non ci credo mai. Dai, vabbè, però mi hai derrotto. Da dove? Da dove? È da dietro di qua. E infatti stanno pushando l'amigotto mio. Arriva, eh. E ci lancia razzi. A me non mi ha hitato questo con cui stavo pushando. A me mi ha hitato un altro team. E infatti ecco lì là, appostati. Dove? È, stanno a 2,90. È, sotto ho visto pure uno scudo che mi devo andare a fare per forza. È uno scudino qua sotto, so. Eh, aspetta, aspetta, aspetta. Ma sono su quelle costruzioni lì. Ah no, hanno usato... No. L'ho hitato. L'ho hitato col caccio. Ma da dove? È tirato giù. No. Vai, vabbè. Stiamo qua. No, c'è un altro giù tutto. Eh, come famo? Vai, scendi, scendi, scendi qua. No, no, no. Sta salendo, sta salendo. Non stavo buttando giù niente. Eccolo. No, no. Ma che cos'era? Giù, 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 giù. Zitto, 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 zitto. Non ci credo. Non ho capito quello che è successo, eh. Non so se stavo buttando giù, ma come vai a buttare giù sta roba? Ok, è un altro compagno. È un altro team. Io non ce la faccio più. Intensa sta partita. Due sei, due sei. Eh, non lo so, manco io. Ah, lo vedo, lo vedo. Ok, l'ho hittato, l'ho hittato con il lanciarazzi. Oh, dobbiamo andarcene, eh. Arriva la tempesta. Occio, copriti. Sì, sì. Rimano qui. Come rimango? No, c'è un altro team ancora. Io basta. Io mi sto per mettere a piangere. Nascondi. Non sei nascosto, copriati i lati. Eh, lo so, lo so. Ma è un momento questo qua. Sono qui lì, sono qui lì, sono qui lì. Ci stanno a 300 stanno. Il problema nostro è a 300. Hittato. Occhio, occhio, che lanciava. Occhio, sopra. No. No, sono rigaduto. Sono vivo per miracoli. Rimane, rimane. No, non ci credo. No, 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 no. No, 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 no. Io, cioè, veramente, ti giuro. No, l'ho hittato, ma non l'ho preso in testa. Oh, headshot, baby. Eh, ma io pure l'ho preso. Ma... Vai, 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 spara, spara, spara. Sì, vabbè, ciao, lo so. Con lanciagranata lì è un po' difficile. Ma io ancora devo capire, come ho fatto prima a non prenderlo in testa, ma a prenderlo sul corpo. L'amico è scappato, fammi capire. Ma hai ucciso il testo. Ah, ok. Eeeh, la festa senza di noi. Non si fa, eh. Andiamo. Eeeh, la festa senza di noi. 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 M'ha fatto ballare Dov'è? Ma quanta vita! Hai ucciso? No, però gli ho tolto parecchio Eh baffamene No, no dimmi che non ti capisco Meno male Eccoli, eccoli, stanno qui Ok, è ucciso Era solo uno Sì, sì Meno male, manco l'ho preso in testa È morto subito, quindi easy Mi prendo quello che ha, anche perché vedo uno scar Cosa? Guarda quanti siamo! Ma come i quattro? Ma che cosa? La partita è più corta della storia Ma co, ti prego Non ho mai fatto così poche kill in vita mia Ti prego, lasciami gli ultimi due Perché qui è un problema No, aspettate, no ragazzi, perché Sì, ma fermi un attimo Che vuol dire che la partita è già finita, ragazzi? Che vuol dire che la partita è già finita? Ehm, mi ha sfiorata Ma sei fuori Non parla mai più L'hai preso in testa? Ma, cioè Ma stava da solo Ma guarda, guarda, guarda Cioè, ma come fa ad essere finita così in prezzo Questa partita? Scusate Mi schiace, non pensavo di ucciderla così in prezzo Ma no, vabbè Ehm, a parte quello Cioè Cioè Vabbè Ok Ma mo' a trovarlo l'ultimo Cioè, guarda quanto è grossa la mappa Dove lo trovi? Come fai a trovarlo? Aspetta Eccolo, eccolo, eccolo Eccolo Trovata A vero Trappola Trappola Quello, madò E che è quello? What? 860 di scusa Sta scendendo Sceso Lì in mezzo What the hell? Ma dov'è? Andiamo se lo vedo Maffamene Ce l'ho sotto Mina Eccolo, eccolo Sei andato all'interno Qua dietro Ma che sta a fa? Parte, parte, parte Parte, parte E faccio Eccolo lì Lo vedo Sta arrivando Caduto, caduto Ma si può La partita Come la fin Della mia vita Ma a parte quello Cioè io penso Che veramente Abbia un record Di una delle partite Più veloce della storia Ma che è? Eccolo Ciò Che c'ero Faccio Di casa